Che valore dai tu allo sport, visto che pratichi uno sport particolare che non è conosciuto da tanti? Per me praticare sport è il massimo, mi ritengo fortunato di essere entrato in questa dimensione. Uno sport molto faticoso e devo dire che tante volte l'ho odiato, perché ho odiato fare allenamento, ma alla fine poi mi ha sempre ripagato, quindi non potrei mai pensare di poter vivere senza questa attività. Ci racconti con tre aggettivi che cos'è per te lo sport della canoa? Sacrificio, dedizione, ma anche soddisfazione. Quindi come assembli lo sport modello di vita con ciò che fai? Modello di vita perché oltre all'atto in sé della pratica sportiva insegna anche molti valori, che sono quelli della meritocrazia, dell'impegno, del rispetto degli avversari, e comunque insegna anche ad affrontare la vita in modo molto più a testa alta. Un messaggio per i giovani che praticano sport? Cercare di godersi questo percorso perché è il migliore che possono affrontare.